Con un pareggio questa gara in notturna tra Catanzaro e Savoia, diciamolo chiaramente, è stato un Catanzaro brutto, decisamente brutto oltre ogni aspettativa. Un primo tempo oserei dire indecente, nel secondo tempo soltanto il rigore concesso e la doppia inferiorità numerica del Savoia hanno permesso al Catanzaro di fare qualcosa negli ultimi minuti ma decisamente poco per una squadra che punta a fare un campionato importante. Io penso che i fischi finali e la contestazione al tecnico, al direttore sportivo, un po' a tutto l'ambiente, dicono tutto sulla gestione della partita. Partita gestita malissimo dal primo minuto da quando si è vintato in campo. Io posso anche capire che il Catanzaro vorrebbe fare un tipo di gioco, però nel momento in cui ti manca nel mezzo il tuo giocatore più tecnico dove già giochi a due e non puoi inventarti calciatori che non hanno quelle caratteristiche e vanno incontro a magre figure. Primo tempo che abbiamo visto solamente con il Savoia che arrivava su ogni pallone, mentre noi eravamo in netta inferiorità a centro campo e soprattutto in netta inferiorità di idee. Noi volevamo fare giropalla ma con giocatori che non hanno piedi per fare quel tipo di gioco. La ripresa secondo me è ancora peggio. Abbiamo giuffato un pari così nato su un calcio di rigore netto che è stata quasi una manna dal cielo per come stava andando quella partita. Poi sono arrivate le due espulsioni. Giochiamo in 20 minuti in superiorità numerica di due uomini e non riusciamo ad entrare in aria con quella convinzione, cercando di andare a fare gol e di chiudere la partita che c'era stata servita vuoi meritatamente per le espulsioni dall'aria, non lo sappiamo, però su un pietto d'argento. Per non parlare poi dell'impostazione del secondo tempo, non si può fare un cambio nei minuti di recupero quando giochi contro una squadra che non ha più attaccanti e che è solo barricata dietro giochi ancora con quattro difensori, non metti un altro centrocampista che potrebbe dare densità per far girare la palla quindi diciamo che la partita noi dalla tribuna l'abbiamo vista così. Forse dalla panchina qualcuno, proprio il tecnico Moriero l'ha vista diversamente ma noi non siamo gli allenatori, non siamo portati per fare dei cambi, per questo c'è il mister. Al di là dell'aspetto tecnico, tattico, quello che lascia davvero senza parole è la mancanza assoluta di grinta di una spinta agonistica che oggi poteva anche esserci, visto comunque il tasso tecnico del Savoia che sì, aveva cambiato allenatore, quindi magari aveva quella spinta in più però il Catanzaro ha fatto davvero poco e oggi davvero è difficile trovare una nota positiva. Guardi, io non voglio essere ripetitivo però noi dobbiamo partire da un punto in settimana gli allenatori, gli allenamenti si fanno con Moriero Moriero vede le partite, sa benissimo come il Catanzaro doveva affrontare questa partita e forse se noi ripartiamo dall'azione del gol nostro, quella nata sul calcio di rigore là credo che c'è tutta la chiave della partita, un'azione di Majorano che ha quasi fatto un'azione da rugby per portare palla avanti, oggi la partita andava impostata solo in quel modo senza tocchettini, giro palla, palla dietro, onestamente è stato veramente deprimente quello che abbiamo visto in campo e a maggior ragione quando siamo rimasti nove abbiamo proprio dimostrato che noi quel tipo di gioco non potevamo farlo perché se non l'abbiamo fatto in 11 contro 9 figuriamoci cosa potevamo fare in 11 contro 11 quindi qua adesso non lo so come bisognerà ripartire perché è stata veramente una mazzata cioè questo pareggio sta di sconfitta, parliamoci chiari perché se il Savoia rimaneva in 11 o anche in 10 non so se noi pareggiavamo questa partita poi abbiamo fatto alcune azioni con Squillace per non parlare anche perché qua non è che dobbiamo dare solo colpe a chi si siede in panchina o a chi ha costruito questa squadra abbiamo visto dei calciatori, dei dirigioni che fa degli errori che neanche in terza categoria possono esistere tre falli regalati a una squadra che gioca in nove che cercavano solamente il fallo tu difensore esperto che l'anno scorso hai fatto un campionato non puoi commettere quegli errori come non li può commettere il tecnico a continuare a rimanere fissato con quella tipologia di gioco e con la difesa a quattro quando eravamo in 11 contro 9 forse possiamo dirlo arrivati insomma a questo punto del campionato probabilmente il ciclo di Moriero non è mai iniziato obiettivamente ormai è da troppo tempo che il Canzano non gioca più a calcio cioè noi siamo stati alla mezza e abbiamo perso perché siamo rimasti in 10 oggi eravamo in 9, non riusciamo a vincere e qua bisogna davvero meditare va bene, noi abbiamo analizzato la partita grazie soprattutto al commento tecnico di Salvatore come sempre vi rimandiamo gli aggiornamenti su uscatanzaro.net e vi ricordiamo che potete iscrivervi sul canale youtube cercando .net channel grazie ciao